La traduzione è proteggere la propria comunità e difendere la libertà. Vi ricordo che nella storia Andrea Soffer è morta per la libertà di questo territorio. E teme artigiano, voglio dire, vergogna all'Associazione Artigiani, vergogna che la si è allineata per la Confindustria. Irresponsabili presidenti delle associazioni allineati con la Confindustria. E' la vergogna totale che tutti li ha incontrati e la libertà è un'altra cosa. E da artigiano ancora io sono qua e ho scritto chiuso per Green Pass. Perché questo è lei che deve fare anche la mia categoria come i commercianti e l'Unione Commercio. Sono allineati al suo sere e chiude dicendole. Mila e cinquant'anni che lavoro e me vergogno se quelli della mia età noi vengono in piazza a difendere il futuro di libertà dei nostri figli. E posso dirvi che mi vergogno veramente perché la Sarga è un futuro del genere di mancanza di libertà. Vivere in una società di ricatto perché questo è un ricatto perché qualche coglione in televisione l'ha detto ieri che noi ricattiamo. Non c'è di che le loro che ne ricatta noi che volendo difendere la libertà. E come il mio omonimo Jürgen che a Bolzano di fronte a più di 7.000 persone l'ha detto in 5 parole quel che l'aveva detto in tedesco. In 20 minuti l'ha di sol. Va a fanculo governo ricattatore pieno di corruocchi. E basta. E morirò in piedi per difenderla. Mia libertà è quella dei meffiori e dei vostri figli. Ciao a tutti.